Bentornati in Scuola Corghi, andiamo adesso ad analizzare la procedura di ROC prevista nel caso in cui siamo di fronte ad una situazione di cerchi danneggiati e dobbiamo seguire l'assetto su dei cerchi di cui non siamo sicuri del loro stato. Come procedere? Cominciamo con la procedura standard attraverso la selezione del veicolo da banca dati, quindi semaforo verde, camera che ci aiuta a guidare il veicolo in posizione corretta sul ponte, proseguiamo, selezioniamo la nostra macchina da banca dati Renault Clio del 2019, andiamo a selezionare la marcatura corretta dei pneumatici a monitor, questo ci fornirà le indicazioni necessarie per poter posizionare il veicolo in modo corretto durante la procedura di ROC. Andremo a eseguire una procedura di ROC o compensazione a spinta in questo caso, quindi selezioniamo dal menu alla nostra destra modalità di ROC a spinta o premiamo F1 da tastiera, in questo caso apparirà a schermo un'indicazione in millimetri che ci indica di quanto spostare indietro rispetto alla posizione del centro del piatto la nostra vettura. Andiamo a misurare con, aiutandoci con un metro, la distanza di quanto spingere indietro la nostra vettura. Andiamo a spingere la nostra macchina fisicamente fuori dai piatti. Ok, una volta posizionata la vettura in prossimità della misura necessaria per eseguire la misura col ROC andiamo a far partire la nostra misura. Quindi ENTER da tastiera o freccia azzurra per continuare e i robot eseguiranno una prima misura. Andranno a scansionare la ruota posteriore e posizionarsi al centro della stessa. Terminata la misura sulla sale posteriore i robot si spostano a scansionare il pneumatico della sale anteriore per poi posizionarsi al centro con le testine al centro della ruota. Terminata la misura sulla sale anteriore possiamo dare per conclusa la prima fase della procedura di ROC, di compensazione. Adesso in automatico i due robot si posizionano già nella posizione corretta dove troveranno poi la sale posteriore per la seconda misura. In questo caso il software ci indica di muovere il veicolo di nuovo nella posizione di centro piatto, quindi spostiamo il nostro veicolo di nuovo al centro dei piatti e non dovremo fare altro che premere ENTER o cliccare sulla freccia azzurra a monitor. Dopodiché i due robot scansioneranno nuovamente il pneumatico posteriore per poi posizionarsi al centro della ruota. Terminata la misura sulla sale posteriore i robot si spostano sulla sale anteriore, andranno a scansionare il profilo del pneumatico per poi posizionarsi con la testina al centro della ruota.